Salve a tutti e vi servizio per questo nuovo video, un po' speciale perchè tendiamo a celebrare i 5500 iscritti quindi grazie a tutti per essere il supporto e per il supporto partiamo con l'unboxing perchè è un pacco un po' speciale allora il pacco è questo allora da notare i dettagli a Mariano Vachetti, Dudu Monster Mariano Vachetti speciale S, 500 iscritti è l'occhio di Youtube wow originale, originale, originalissimo farò prima un po' di ASMR come sempre cos'è questa luce? abbagliante abbagliante wow guarda che luce alza fino al tuo ci vuole una musicata e questa è quella di Mariano Vachetti e questo è il mio e questo è il mio e il pacco lo chiudiamo uno, due e poi sarebbe poi l'effetto allucente è bellissimo ci abbiamo messo tre mesi per farlo ma è bellissimo anche se si vede tipo speculare nel senso che non è certo ti immagino è così tecnica ce ne fa andare andiamo così a loro allora facciamo una video allora qua sta il logo di Youtube su questo ha scritto Mariano Vachetti congratulation for passing 10.000 subscribers 10.000 è una cifra è un obiettivo da raggiungere e poi c'è il logo la scritta di Youtube bellissimo la stessa concetto è uguale abbiamo realizzato con un foglio che abbiamo un foglio bianco e poi abbiamo pitturato di nero poi abbiamo preso in legno con legno per fare lo ma questo serve un red play button si un red play button un red play button quindi dicevamo cartoncino nero per il fondo o meglio dipinto di nero questa è plastica plastica per fare questa connecetta che poi è stata divisa in pezzi cioè non è un unico blocco e l'abbiamo unito con la colla poi questo è un pezzo di carta stampato che abbiamo messo sopra e poi questo è carta dipinta di nero e questo poi dietro stai l'accetto per metterlo ovviamente bravo l'accetto per la metterlo l'abbiamo messo pare tre mesi adesso siamo riusciti a farlo si si e che abbiamo iniziato d'estate abbiamo finito poco tempo fa infatti e ora partiamo con l'appendimento con la clip con la clip che già abbiamo registrato quindi partiamo con la clip cosa ci vuole adesso? si adesso ci vuole chiodone per martellare qui chiodone abbiamo pensato di metterlo qua appeso qui tra i miei dipinti ah quindi ti stai anche sponsorizzando i dipinti certo ora devi chiodare devi chiodare il punto è questo qui da aggiungere mettere il dito indichi col dito indichi col dito indichi col dito fai scendito così mi guardi la schiena di bandone sì sì innanzitutto direi così in modo che tagliarti il dito no no non spiatella però come messo numero uno come inchiudare messo numero uno ok ok adesso dobbiamo solo chiodare ok aspetta un momento dell'apprendimento ed ora lì hai visto ora la tua camera una videora vedrete vedrete tutte le intro e le altre quando ti ho chiesto mi sarà sempre questo pezzetto spero che questo sia il viaggio se lo scopste se lo scopste le raccontate condividete e quando si dà questo video usciremo anche delle novità riguardo a casa adesso vediamo di cosa vedete buono cavido perchè non troppo quando si vede l'occhio è bellissimo quindi mi penso a mettere un like grazie per la visione iscrivetevi al canale come abbiamo visto abbiamo fatto una 10.000 grazie per la visione al prossimo video ciao